Musica Questa mattina ha traccato a Taranto la nave Discovery della compagnia Marella Cruises che con i suoi 1800 croceristi è la nave passeggeri più grande che abbia mai ormeggiato nello scalo tarantino. Oggi ospitiamo l'ultima toccata della nave da crociera Marella Discovery che però ha già bloccato le date per gli scali dei prossimi anni. L'ultima toccata di una nave da crociera sarà il 26 ottobre e concluderemo così la stagione 2019 ma con grande ottimismo in quanto le prenotazioni per il 2020 e ancora di più per il 2021 sono di crescita significativa per cui siamo particolarmente contenti che questo nuovo traffico che il porto di Taranto ha avviato da qualche anno piano piano sta diventando uno di quelli più significativi per noi. Musica 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 Musica